...sostanze, è il nostro sangue, è la vita nostra, e piuttosto che vederti vinto e disonorato, è il coraggio nostro, è la nostra fede, se che avrassi per io sotto di ti. Ma già che altro non mi resta da fare, il nostro cuore sia l'onoratissimo dottomba, è il più puro, è il più grande tuo elogio, e nostre lacrime. Viva San Marco, viva, viva, grazie Paolo Borsetto, io pregherei il pubblico prima di iniziare il dibattito, visto che Luciano...